Salve a tutti, in questo video tutorial vi illustrerò come installare Vassal, installare un modulo di gioco, vi spiegherò che cosa sono e come si installano le eventuali estensioni, setteremo l'italiano per il software Vassal e vi mostrerò come partecipare ad un gioco online o creare una partita, un nuovo gioco sempre online. Per prima cosa colleghiamoci alla pagina sul sito giocamici come giocare Vassal il motore di gioco. Troverete dei link in box verdi corrispondenti alla versione di Vassal adatta al vostro sistema operativo. Noi scarichiamo e clicchiamo quindi su Vassal per Windows. Scaricate anche il modulo tic-tac-toe, il gioco semplicissimo del Tris. Alla fine del download vi ritroverete sul vostro desktop i due file, Vassal e il modulo del gioco. Clicchiamo su Vassal, procediamo nell'installazione, Next, lasciamo questo valore di default, ancora Install. Al termine dell'installazione, ancora su Next. Cliccando su Finish verrà eseguito Vassal per la prima volta. Notiamo anche la comparsa dell'icona di Vassal sul desktop. Clicchiamo quindi Finish. Questa è la schermata di avvio di Vassal. Per prima cosa dobbiamo installare il nostro primo modulo. Anzi, ancora prima settiamo Vassal in italiano. Quindi sotto File, Preference, cambiamo Language da Inglese a Italiano. Ok. Perché la verifica abbia luogo bisogna chiudere e poi riaprire Vassal. Bene, ora il software in italiano. Quindi installiamo il modulo del Tris. File, Gioca modulo, cerchiamo sul desktop, Tic-Tac-Toe, partirà automaticamente la selezione per la prima vostra partita. Selezioniamo Cerca una partita in linea e infine Termina. Vassal si collega al server. Nella parte destra vi sono le cartelle che rappresentano il gioco di Tris in questo momento online. Cioè che c'è un giocatore che aspetta dei partecipanti per iniziare una partita. Clicchiamo sulla cartella Tris e ci troveremo insieme al giocatore Nicola. Diamo il V alla partita tramite File, Nuova partita. Scegliamo, e per questo è meglio, può essere già in collegamento audio tramite T-Speak, oppure anche cliccare e scrivere nella chat di Vassal. Scegliamo quindi dopo essersi messi d'accordo con l'altro giocatore o Red o Black e clicchiamo su Termina. Ridimensioniamo la finestra principale per permettere più agevolmente di assistere alla partita e anche di farvela vedere a voi sul tutorial. Questa è la zona che vi dicevo per la chat. Ecco la risposta dell'altro giocatore dopo che abbiamo fatto File Esegui partita dobbiamo sincronizzarci. Per fare questo basta cliccare sul nome dell'altro giocatore col tasto destro e fare sincronizza. Ridimensioniamo ancora e da questo momento siamo sincronizzati e possiamo iniziare la partita. queste sono le pedine con un doppio clic su una pila la si scompone nei moduli singoli quindi mettiamo la X aspettiamo la risposta del giocatore e via di questo passo ora vi illustro invece come creare una partita online chiudiamo questa partita per fare questo voi dovete all'apertura di Vassal risulterà già installato Tic Tac Toe dovete cliccare due volte sul nome del gioco spuntare cerca una partita in linea e sarete collegati al server come vedete non c'è più la cartella del gioco Tris questo vuol dire che in questo momento non c'è nessun giocatore intenzionato a giocare a Tris e ne creiamo una nuova nuova partita gli diamo un nome Enter a questo punto facciamo quello che faceva Nicola nel precedente esempio cioè aspettiamo che si colleghi un giocatore da questo momento comunque le operazioni sono simili l'altro giocatore cliccherà nella cartella entrambi si darà il via la partita tramite file nuova partita e ci sincronizzerà a vicenda chiudiamo per ultimo vi volevo parlare delle estensioni nelle future recensioni troveremo dei giochi che oltre ad avere il modulo hanno anche le estensioni le estensioni rappresentano per un gioco online quello che per un gioco in scatola da tavolo sono le espansioni scaricherete anche queste sul vostro pc e le abbinerete al modulo principale tramite tasto destro nuova estensione aggiungi estensione non nuova estensione che significa crearla ma aggiungi estensione caricherete quindi il file appena scaricato questo è un tutorial di base se volete approfondire l'uso di Vassal trovate sotto aiuto user guide una guida completa sul programma ma in inglese grazie dell'attenzione a tutti e buon game e buon game e buon game Grazie a tutti